C'è qualcuno che è più bravo di te e che io... Ma che sei impazzito? Uno, uno è più brava anzi di te e il mio sogno sarebbe conoscerla. Chi è che osa tanto? Lei. Lei? Chi è? Laurzo Mando? Barbara D'Urso. Barbara D'Urso? Barbara D'Urso. Tu vuoi... Fermi! Non si può fare. Che applaudite? Sta sopra, ha detto. Il mio sogno è andare da Barbara D'Urso e tu sei sempre molto carino con i tuoi ospiti. Con tutti gli ospiti sei sempre molto carino. Vengo qua e ti chiedo una cosa. Ma è difficile. Andare dalla D'Urso? Ma come si fa andare dalla D'Urso? Ma si può fare. Ma è una strada complessa, è una strada complicata. Ma tanta gente va dalla D'Urso. Ma che faccio? Vieni, no. È una strada complessa, è complicata. Sono vie impervie quelle che portano... Però si può fare. E come si può fare? Pensaci. E come si può fare? Dammi una mano. Tu sei politico? No. No? No. Quindi andavi bene a scuola? Sei politico. Allora, sei politico. Hai ammazzato qualcuno? Non ancora. Qualcuno ha ammazzato te? Quello sarebbe uno scoop. Vado da morto. E beh, fai gli a scoop. Niente, niente. Non fa niente tutto il giorno questo. Non è politico, non ammazza gente. personal, sì, che bella. Pullo con il giorno, ho ammazzato you. Una, se per eligibility che vede seiículos. Tamp Сomacato, non ce che convertei? Ma ora cuore. Te rappro, io ho ammazzato. Soto, lo sai por il giorno, ho ammazzatoli, ma inspr 침. Grazie a tutti